Il gruppo di Sant'Arpino al centro ha posto all'ordine del giorno 3-4 argomenti su cui denuncia una certa reticenza della maggioranza a rispondere. Cominciamo dalla questione riguardante gli immobili comunali e la vicenda APU. Allora innanzitutto diciamo che questo tipo di politica di opposizione che pone di problemi a noi piace rispetto a quell'altro tipo di opposizione che invece fa soltanto denigrazione e dei malafete. Questo già significa che con questa amministrazione si incomincia a riportare al centro della discussione i contenuti. Entrando nel merito vorrei dire alla quattro mani che è presidente della commissione di trasparenza e come tale avrebbe l'obbligo di dovere di convocare la commissione di trasparenza per parlare di questi argomenti. Cosa che non ha fatto. È già questo in adempimento gravissimo da parte della consigliera comunale che ha voluto essere presidente di questa commissione. Poi la comunicazione è stata inviata ai responsabili dei servizi e al segretario comunale quindi non è stata inviata la parte politica. Quindi la risposta non dobbiamo darla noi ma la devono dare i responsabili dei servizi i quali nel merito dico addirittura che la PEC non l'hanno ancora ricevuta. Ma entrando nel merito perché noi non ci sottraiamo assolutamente nel merito della questione, sull'APU, sull'attività della pubblica utilità, siamo stati in Regione Campania, abbiamo portato il bando in tempo utile per pubblicarlo e quando è uscito la proroga abbiamo anche pubblicato la proroga del bando nei tempi utili quando siamo utili a conoscenza. E tanto è vero che non abbiamo avuto delle grosse difficoltà quindi abbiamo ottemperato e abbiamo dato risposta alla cittadinanza. Sulle luminarie natalizie che abbiamo fatto a corso a zero mi sarei aspettato che la Quattromani invece convocasse la Commissione d'Asparenza per chiedere i 50.000 euro delle luminarie della sua amministrazione perché non sono stati pagati e perché risultano ancora un debito per il Comune di Sant'Arpino. Altro fronte caldo sempre a Sant'Arpino è quello delle tasse tra qualche mese, a marzo, andrà via l'APU. Però l'opposizione dice che siamo passati dalla padella alla brace e soprattutto contesta l'incarico dato per tre anni alla dottorissa Iovine. Allora, innanzitutto l'Aiapia andrà via a marzo così come abbiamo promesso. Il potenziamento dell'ufficio di tributi era un potenziamento dovuto perché tutto il carico di lavoro cadrà sugli uffici comunali ed abbiamo avuto una persona qualificatissima attraverso un bando pubblico a cui poteva partecipare chiunque, dalla Sicilia a Trentino Alto Adice, poteva benissimo partecipare, è stata fatta la selezione da parte dei responsabili dei servizi e soprattutto la dottorissa Iovine costerà molto di meno di quello che è costata l'Aiapia. L'Aiapia è costata nel corso di questi anni 452.000 euro all'anno alle casse comunali sant'Arpinesi senza portare nessun contributo. Mentre invece una professionista altamente qualificata, trovata attraverso un bando pubblico, attraverso una selezione, in maniera trasparente, costerà la modica cifra di uno stipendio mensile, ma ha già dato dimostrazione di cosa è capace di fare. Siamo stati i primi comuni in provincia di Casetta a fare il regolamento per la rottamazione e qua voglio dire agli amici di Sant'Arpino e al centro che sbagliano quando dicono che non occorre il regolamento. La rottamazione delle cartelle delle ingiunzioni comunali deve essere disciplinata attraverso il regolamento di consiglio comunale. Andassero a leggersi la legge, visto che hanno anche degli avvocati nella loro lista, e noi queste cose le abbiamo fatte grazie a questo potenzialmente dell'ufficio tributo e a breve faremo, passerà proprio nella Commissione Affari Generali, faremo anche un regolamento che consenterà la compensazione fra i tributi comunali e i cittadini che devono avere dei credi nei confronti del Comune. Quindi due importanti regolamenti che già significano un'inversione di tendenza rispetto al passato. Passando dalle politiche finanziarie e dai tributi ai lavori pubblici, oggetto della polemica in questi giorni sono stati l'asilo nido e il risanamento del sistema fognario. Questa è proprio una polemica che Sant'Arpino e al centro non si poteva proprio consentire di fare. Se ci troviamo nel casino in cui ci troviamo con l'asilo nido è grazie all'incapacità amministrativa di chi ci ha proceduto. L'asilo nido addirittura allora avevano pensato di finanziarlo con oltre 600 mila euro dalle casse comunali, di cui 300 mila per arredi e 300 mila euro avevano scritto di fare un mutuo e che non hanno fatto. Attenzione, loro sono impegnati per un intervento complessivo di oltre un milione di euro, con un finanziamento regionale, finanziamento regionale che è stato decurtato del 25% per colpa loro perché non hanno saputo eseguire le pratiche amministrative, quindi abbiamo avuto una decurtazione e il Comune deve far fronte a questo. Hanno impegnato le casse comunali dicendo, scrivendo una falsità, dicendo che avrebbero fatto un mutuo, che non hanno fatto. Non hanno pagato la ditta, perché noi abbiamo chiamato la ditta a un confronto con l'assessore ai lavori pubblici e la ditta si è lamentata tantissimo nel passato che non ha ricevuto tutti i pagamenti che doveva fare. Ci stanno ancora degli ordini di servizio fatti dal direttore di lavoro precedente che non sono stati pagati, quindi ci troviamo in un coacervo, in un casino immenso per colpa di un'incapacità amministrativa complessiva di chi ci ha preceduti. Noi abbiamo deciso che con questo bilancio impegneremo una somma necessaria per completarlo, perché riteniamo che sono soldi pubblici, non vanno sprecati. Mentre loro hanno fatto solo fumo, nel senso che addirittura hanno intestato l'asilo nido a Franca Rame senza completarlo, noi ci auguriamo con il bilancio prossimo di completarlo attraverso gli sforzi notevoli che faremo con l'assessorato e con la ditta che si è lamentata notevolmente anche di questa passata amministrazione che non ha attemperato tutto quanto doveva. Il risanamento fognario è un'opera che noi porteremo a termine e così come ha detto l'assessore nel suo comunicato stampa riusciremo a potenziare la rete fognare nel centro storico del paese ed è merito nostro se abbiamo portato avanti quest'opera che loro non dovrebbero completare entro il 2015. Fronte caldo di queste ore invece la raccolta differenziata. A febbraio, l'8 febbraio partirà il nuovo piano ambientale però l'opposizione, sempre Sant'Alpina al centro, vi accusa di aver diffuso dati falsi. Non è vero, non sanno leggere, quindi non solo non sanno che il regolamento della rottomazione è necessario ma non sanno manco leggere perché nelle brochure non sono scritte da nessuna parte il 48%, non l'abbiamo scritto da nessuna parte. Anzi, nel piano ambientale che è stato votato in Consiglio Comunale e che loro anche hanno votato sta scritto che abbiamo raggiunto la percentuale intorno al 42%, ma attenzione questa percentuale così bassa è stata raggiunta perché è un metodo che loro hanno individuato per la raccolta differenziata. Noi stiamo eseguendo un percorso di raccolta, un metodo di raccolta che è stato adottato dalla precedente amministrazione. Noi cambieremo radicalmente invece questo metodo a partire dalla seconda settimana di febbraio, stiamo distribuendo le brisciune e le case dove non è scritto questa storia del 48%, potenzieremo la raccolta dell'umido, di un metodo indifferenziato, ma soprattutto faremo in modo che i cittadini virtuosi che conferiranno loro stessi singolarmente plastica, vetro, carta e cartone per solista ecologica avranno uno sconto in base alla quantità di carta, vetro e cartone che porteranno per solista ecologica. Quindi cambierà complessivamente il sistema e ci auguriamo tutti assieme con la collaborazione dei cittadini di poter raggiungere certamente dei valori più alti di raccolta differenziata. Quindi respingo ammittente questa accusa perché il valore di percentuale di raccolta differenziata non è il 48%, non l'abbiamo scritto da nessuna parte e ci auguriamo di superarlo ampiamente con il prossimo metodo di raccolta differenziata che è diverso da quello che ci ha preceduto. Grazie. Grazie.